3 ore, 15 e 55, Trenitalia vi augura buon viaggio. Gentili clienti, vi invitiamo ad abbassare la suoneria del cellulare e il sonno della voce al fine di non disturbare gli altri viaggiatori. Grazie per la collaborazione e buon viaggio. Good morning, welcome aboard the Trenciao Rossa 9535, the train will arrive in Napoli centrale, but 1535. Trenitalia wishes you a pleasant journey. Dear customers, please lower the volume of the mobile phones and the tone of voice so as not to disturb other passengers. Trenitalia wishes you a pleasant journey. Buon viaggio. Ma altamente, questa è la mia marca che ti mi ha regalati. Ma altamente, la mia marca che ti mi ha regalato. Grazie.